Musica Cari amici benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Come sapete noi adoriamo la roba in 3D E per questo motivo vi vogliamo presentare una casa piena di elementi tridimensionali E questa volta senza neppure l'utilizzo di un resource pack Ma creata interamente con un sapiente utilizzo di command block e armor stand E' stata creata per un contest di planet minecraft come potete notare su questo sfondo gigantesco E ora iniziamo questo tour virtuale Secondo me è veramente una cosa fantastica e ci sono davvero tantissime case che sono veramente eccezionali Abbiamo deciso di partire da questa perché è 3D Ma se vi piace l'idea vi vogliamo presentare anche altri video sull'argomento case Perché potete prenderne spunto e ci sono dei veri geni dell'argomento Guardate che belle le porte Questa specie di cornice che le incastona Sembra veramente I blocchetti di clay Non so come abbia fatto a farli E' veramente bellissimo Potrebbe sembrare una mod ma invece è assolutamente fatto in vanilla Abbiamo anche un attacca panni Con una bella armatura appesa sopra E' guarda lì le mie Le testo lì Con un collino Non guarda c'è un Funko Pop fuori dalla scatola Ah è rimettilo a posto che prende la posta E' uno di quelli delle zbox che vi ho mostrato in un video Che trovate in descrizione naturalmente Guardate che belli E poi si passa alla cucina Possiamo notare subito Abbiamo il frigo, il forno Questa specie La lavastoviglia con l'attaccato all'asciugamano Può darsi perché Che bello Il tagliere Il tagliere Per fare il pane alla carta igienica Già pronto il pane alla carta igienica Per me si Che buono E abbiamo ovviamente i cassetti con i pomelli Il Guarda sta Guarda sta sedia E' splendida Ci sono Qui dentro c'è una trapdora Dell'oro Delle leve Delle face Delle blaze E' una fazzina Delle face di birch Che schifo Guarda ovviamente E' funzionale E da qui posso mangiare Le mele Gnam 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 Vuoi le mele amore? No più tardi grazie Qui abbiamo il Aspetta 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 Allontanati Allontanati un attimo Avvicinati Fa vedere Funziona Guardate Ha le cellule fotoelettriche O come il diabete si chiama Comunque Il sensore di prossimità Quando uno si avvicina Funziona Bellissimo Bellissimo davvero Ci ricorda Il lavandino Che abbiamo visto Di The Red Engineer In come creare La cucina perfetta Vi lasciamo il link In descrizione Anche di quello Insieme al link Di G2A E' un tavolo Da biliardo Chi sa come rotolano bene Queste palline Cioè nel senso Avevo visto l'anteprima Da qui davanti Mi avevo già detto E' bellissima la porta Così Non l'avevo visto Il biliardo T'hai sfuggito Di lampadario Il lampadario epico Guardate Cioè non ci credo Vi dà veramente l'idea Che possono essere Delle lampadine Della roba Perché come vedete Le torce Sono sotto vetro E' perfetto E' perfetto Guardate le palline No peccato Non ci si possa giocare Quando si potrà fare Biliardo in Minecraft Guarda il vaso dei fiori Quaggiù verde E' un vaso proprio E' bellissimo C'è il vaso E' il sopravaso Cos'è tipo La macchina delle caramelle Tu mangi le uova Come caramelle Può darsi uova sode Quelle che tipo Metti Metti l'ingettone E poi finisce qua Nell'hopper Che dà l'idea Di essere Una roba Da cui possono uscire Le caramelle Fantastico Aspetta Guarda E' spesso Non ci credo E' bellissimo Cioè Guardate E' sembra Si può capire Un pochino Da qua Sembrano milioni Di micro blocchi Si sono due micro blocchi Non so come Come ha fatto a farlo C'è anche il letto Cuscino Qui nell'amor Cioè qui ci deve essere Un lavoro Di armor stand Perfetto Al millimetro E' incredibile E' Cioè Voglio un divano Del genere Normalmente E' ben stranto Funziona anche Guardate che bello Che non puoi C'è il posto Per il cuscino Già occupato E no Il cuscino Guardate la televisione C'è tutto davanti Guarda lì Cos'è l'Xbox La wiki Cos'è quello E non va di niente Staglio qui No Il telecomando Il cd per giocare Mettilo a posto Che prende la polvo C'è anche il filo Sembra che vada floppy disk Ma se esistessero ancora Bellissimo C'ha anche le casse Ovviamente anche le cose Non in 3d Però c'ha un suo tocco E' stupendo Ah il computer Ha i tasti Ha i tasti Ha i tasti Il computer Guardate che bella L'idea di mettere Un bottone Leggermente storto Per metterci La stringa De scarpe Per fare il filo Io preferisco Quelli wireless Per mettere un mistero Rimare la tastiera Sì veramente Cioè ha messo i tasti In un modo preciso Bellissimo Posso sedermi anche qua Vediamo un po' Chi si sederà prima Potrà usare Il compito Ah che bello Cioè è stupendo Veramente complimenti Per ogni piccola chicca Guardate di nuovo Il lampadario Con il biliardo sotto Nel senso Ha pensato a tutto E non è finita Abbiamo anche Un piano sopra Dovevo pur dormire Da qualche parte Che bello Guarda Il cassettone Il letto Perché è blu Il letto è blu E' bellissimo C'è anche la testata Del letto E i cassetti Con i pomelli Per aprirli L'armadio E' fatto benissimo Vediamo proprio l'idea Di quei tipici armadi Che hanno spesso Quegli antichi Qualche tipo di decorazione In sopra Vestitini rosa Ce ne sono Peccato non si può Saprire ovviamente Mi sembra normale Però nel senso Creato tutto Con i micro blocchi Con una precisione Pazzesca Può anche venire In terrazzo C'è il terrazzo anche Oh che bello Dove possiamo vedere La sua enorme Anche pixel art Perché no Ha fatto bene E' incredibile Mi sa che non sia arrivata Prima questa Quindi pensate Quante fantastiche Creazioni esistono Se vi farà piacere Che ve le mostriamo Un portale Dell'Ande Uno del Ned Molto decorativi Bellissimi E poi abbiamo Ecco Non osare Rifarmi in casa Una cosa Del genere E poi Abbiamo Il bagno Il bagno Bellissima Di nuovo ovviamente Abbiamo il lavandino Lo specchio Il posto dove mettiamo Gli spazzolini da denti Una doccia Si è attivata anche questa A più impossibilità Andate i bagni Vai via Sposta Fa vedere un po' Si spegne E' vero Va bene a lontano Guardate che idea Quella di mettere Il sensore Di luce Per fare L'idea Della cosa Della doccia E' bellissima Hai visto la cartigenica La cartigenica Miam No 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 Quella è stata per altre cose Non avevo mai visto La cartigenica messa così E' geniale Cioè Dà veramente L'idea Che sia messa All'interno Di come Potrebbe essere Come spesso Si trova Effettivamente Probabilmente E' la cartigenica Più realistica Che io abbia mai visto Questo cabinetto è altissimo Bisogna fare la scala Però è bellissimo Bene Questa è Una casa Riprodotta Con tantissimi Elementi Tridimensionali Senza L'utilizzo Di versus Park Ma solo In vanilla Veramente Stupendo Ogni cosa Che hai letto C'è il letto sotto Per dare l'idea Ma l'ha fatto sopra Quindi forse Non so se può essere utilizzato Magari se azzecchi Il posto Forse si Puoi 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 anche utilizzarlo Aspetta metto un'auto E possiamo provarlo A questo punto Quindi non solo sono Decorative Ma possono anche essere usate Puoi dormire Nanna Nanna Eh che tira sulla testa Non si può C'hai un po' la testa Nel muro Eh vabbè dai Bello È bello Comunque la chicca Di poterli usare Lo stesso Quindi questa casa È comunque Interamente utilizzabile Anche in un mondo Vanilla Quindi è fatta Alla perfezione C'è la torta C'è la torta Che potete utilizzare Come modello Per le vostre case In minecraft Vanilla Perché sono tutte cose Interamente Ricreate Per funzionare In survival Questa un po' meno Però altre Sono veramente Incredibili Speriamo che vi siano piaciute E fate sapere Che cosa ne pensate Nei commenti Grazie a tutti Per essere stati Con adesso Mi metto un pochino A giocare A prestigio No Non si gioca Non si gioca Non si gioca Grazie ancora E Alla prossima Con Dieter Love Ciao